Ciao dietro schiena Vai, tips, tips Leonardo Caldi No, altro, livello superiore del passaggio Facciamo un piccolo upgrade Così come l'altra volta, ho fatto un upgrade Passaggio dietro schiena Ok, passaggio dietro schiena Non è molto utilizzato però Per fare qualcosa di un po' più difficile Facciamo un passaggio dietro schiena Il segreto è Così Quasi, quasi, quasi